Salve musica del tubo e benvenuti in una speedo musicale. La speedo musicale di oggi è indovina il cantante degli anni 2000 dalle loro foto. La regola di questa speedo musicale è semplicissima, vi comprerà a schermo la foto del cantante degli anni 2000 da indovinare. Avete 8 secondi per indovinare il vero nome del cantante. I cantanti presenti in questo video sono ben 20 e vi invito a scrivere qui sotto nei commenti a fine video quando ne avete indovinato. Detto questo, vai con la speeda! Grazie per la visione! Ciao! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.